Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. È un piacere per me oggi fare questo video perché è il video praticamente in ritardo come al solito, scusate ragazzi, scusatemi tanto perché è abbastanza in ritardo, più o meno un mese in ritardo, perché questo è il video dedicato al 2015, hanno passato appunto da un bel po' e praticamente è il mio 2015 videoludico, un riassunto praticamente di tutto ciò che ho combinato in ambito videoludico. Nel 2015, quindi con top, ciò che un pochino mi ha deluso e qualche considerazione magari anche sul 2016 hanno iniziato. Vi ricordo ragazzi che questo video è tutto basato su praticamente impressioni personali, soggettive e che ovviamente non potrete condividere, c'è chi le condividerà, chi non le condividerà, ma io vi invito ragazzi, oltre a lasciare un mi piace, anche a commentare qua sotto con la vostra top, la vostra flop, ma sempre ragazzi in maniera abbastanza civile, perché non voglio poi dovervi richiamare come un maestro dell'asilo. Per me il 2015 è stato un anno abbastanza particolare, perché come al solito faccio fatica a trovare molto tempo da dedicare ai videogiochi, e quindi purtroppo sono rimasto un po' indietro con le nuove uscite. E quindi come spesso faccio utilizzo i primi mesi dell'anno e gli ultimi mesi dell'anno a cercare di recuperare qualche gioco appunto arretrato. E infatti in questo video troveremo in classifica titoli usciti anche parecchi anni fa, ma che mi hanno sorpreso. Come spesso faccio, la top è basata su titoli che io gioco nel 2015, e non titoli che sono usciti nel 2015. Ovviamente troveremo anche giochi usciti nell'anno appena passato, perché se no, credo non tantissimi in realtà, però un po', un po', sì. In questa classifica ragazzi mancheranno molti titoli importanti, sicuramente che vi faranno un po' storcere il naso, ma per i quali posso darvi comunque delle spiegazioni a fine video, perché se no vi faccio uno spoiler grande come una casa. Però vi faccio un piccolo esempio, dato che è uscito comunque verso la fine dell'anno, più o meno, novembre se non sbaglio, Fallout 4 non sarà presente nella classifica, perché l'ho iniziato, l'ho giocato un pochino, ma purtroppo non l'ho completato, e quindi non è il caso di praticamente inserirlo in top, dato che sono praticamente all'inizio, ecco, quindi non mi sembrava sensato inserirlo. Prima di iniziare con la vera e propria top, ragazzi, volevo parlare di una cosa che per pochissimo non mi ha fatto aprire la sezione flop. Anche se più o meno lo considero un po' una piccola delusione, ecco, e in più non era in buona compagnia per inserirlo in una flop. Sto parlando, ragazzi, del PSN Plus, ovvero la sezione giochi gratuiti per PS4 dati dal PlayStation Plus. Purtroppo quest'anno, ragazzi, sono davvero pochissimi i titoli gratuiti che mi hanno colpito. Io capisco che non ci possano regalare dei titoloni della Madonna, però secondo me potrebbero osare un po' di più. Sono infatti pochi i titoli degni di nota, magari Metal Gear Ground Zeroes, Valiant Hearts, per il resto, ragazzi, gli altri, giocati anche in compagnia, si sono rivelati titoli abbastanza deludenti, sia per quanto riguarda il divertimento, sia per quanto riguarda anche il lato tecnico. Una delusione sotto tutti i punti di vista, diciamo così. A partire dalla Croft and the Temple of Osiris, Magica 2, Gauntlet, che abbiamo provato a giocarli in compagnia, ma purtroppo si sono rivelati poco in realtà divertenti e magari non adatto a tutti. Un titolo che sono riuscito a completare è stato Broken Age. È un genere abbastanza particolare, un'avventura grafica con molti indovinelli, tranelli, abbastanza particolare come genere, e a non tutti potrebbe piacere, io purtroppo sono uno di quelli, non sono riuscito ad apprezzarlo, nonostante un lato tecnico davvero molto carino, una grafica davvero molto carina, l'ho completato, però purtroppo non sono riuscito ad apprezzare in pieno questo titolo. E quindi ragazzi, una sorta di delusione appunto, in generale, è stata data dall'assenza dei titoli memorabili, per quanto mi riguarda, quasi la totale assenza dei titoli memorabili per quanto mi riguarda la PlayStation Plus, però magari qualcosina in più, qualche giochino un po' più carino in più, secondo me, potrebbe essere una buona cosa. Partiamo subito ragazzi con la top 9, sì, no top 9, perché come dico ogni anno, io non posso fare le cose tonde, perfette. Top 9, così siamo tutti un po' tranquilli. I primi tre titoli ragazzi sono tre titoli per i quali ho riflettuto molto se inserirli, perché due titoli sono abbastanza particolari, mentre un titolo ero indeciso, ma adesso vi spiegherò perché. Posizione numero 9 ragazzi per Star Wars Battlefront. Titolo che è uscito in un periodo in cui avevo veramente tantissima voglia di sparatutto, e infatti avevo rimesso in console Battlefield 4, e forse è per questo che mi ci sono fiondato. Nonostante però avessi più di un dubbio, a partire dalla totale ignoranza nei confronti di questa serie, fino ad arrivare alla conoscenza del fatto che non ci sia una vera e propria campagna offline all'interno di questo gioco, e quindi è un titolo basato esclusivamente sull'online competitivo. Inizialmente davvero un ottimo titolo, a primo impatto mi ha sbalordito tecnicamente, e anche per quanto riguarda il divertimento mi aveva iniziato a prendere, anche perché ci sono delle rivisitazioni di alcune modalità classiche, tipo cattura la bandiera, e in più sono state aggiunte delle nuove modalità davvero molto interessanti e divertenti. Il divertimento però via via va scemando e viene sostituito dalla noia. Mi sono infatti accorto ragazzi che questo titolo dopo un po' non aveva praticamente più niente da dirmi. Aveva già dato tutto il suo potenziale nelle prime ore di gioco, e infatti mi sono accorto che ciò che non mi entusiasmava era la pochissima possibilità di personalizzazione del personaggio e delle nostre abilità. Purtroppo immagino che questa cosa sia data dal fatto che il titolo voglia essere legato in un certo senso alla serie, e quindi ovviamente le armi magari sono quelle, e non è che posso inserirci un altro tipo di mirino, un silenziatore, eccetera, perché sono quelle le armi del gioco e quindi devono rimanere quelle. Però purtroppo l'ho trovata una cosa secondo me un po' restrittiva, che ha secondo me diminuito le vere potenzialità che aveva questo titolo. Posizione numero 8 ragazzi per Guitar Hero Live. Mi fa un po' strano inserire questo titolo ragazzi, perché è un titolo abbastanza particolare. È come un po' inserire FIFA nella top, ecco. È una sensazione strana per me, ma l'ho voluto inserire esclusivamente per il fatto che questo è stato il mio primo Guitar Hero in tutta la mia vita. Nella mia storia di Riccardo Menzolini non avevo mai giocato a un Guitar Hero, e questo è stato il mio primo Guitar Hero e mi ha divertito veramente da matti. Ottima modalità offline, diciamo così, la modalità carriera. È bellissima l'idea, come da titolo, di simulare praticamente un concerto live e tutto ciò è fatto davvero alla grande. Sicuramente si poteva osare molto di più con la scaletta dei brani, però insomma io alla fine non ho così tante pretese. E mi ha divertito tantissimo ragazzi il Guitar Hero TV. Questa modalità online dove uno può scegliere praticamente cosa suonare a seconda delle diverse ore della giornata. Purtroppo essendo il mio primo e unico Guitar Hero non posso fare un confronto con gli altri, quindi realmente non posso sapere se questo è un titolo degno, è un titolo valido. Io mi baso su quello che ho giocato, il titolo mi ha divertito moltissimo e ho assolutamente deciso di inserirlo in top. Fatemi sapere sotto nei commenti ragazzi se a voi questo titolo vi è piaciuto. Posizione numero 7 ragazzi per un titolo che ho platinato al quale però non avrei mai dato niente, non gli avrei mai dato una cicca, un soldo di caccio, un cazzo. Non mi sarei mai aspettato così tanto da questo gioco. E invece posso giurarvi che in quel periodo dell'anno mi ha creato veramente dipendenza. Sto parlando ragazzi di Rocket League. Eh sì ragazzi, veramente è stato un titolo sorprendente. Per quanto possa essere poco profondo, perché obiettivamente devi fare gol con delle macchinine, però in realtà è ben fatto, è ben fatto, tecnicamente è veramente ottimo, con questi stadi veramente molto carini. E in più il gioco funziona, il gioco funziona, si può giocare in compagnia, è divertentissimo, si può giocare online, offline, in tanti modi, uno contro due, due contro uno, handicap. Ci sono un sacco di modalità, ma soprattutto il gioco rende moltissimo. Abbiamo giocato magari in chiamato su Skype con gli amici, o comunque in compagnia in qualche modo. Ed è un titolo veramente, veramente molto divertente. Che ho deciso di mettere in posizione numero 7, quindi abbastanza basso per la classifica, perché comunque è un titolo, come ho già detto prima, non così tanto profondo. E ho deciso di premiare titoli con una trama o un gameplay un po' più appunto profondo. Posizione numero 6, ragazzi, forse, forse l'avete visto, non so, ma posizione numero 6, che forse probabilmente non vi aspettate mai nella vita, vi direte, ma mezzo, ma veramente hai giocato quel gioco, me ne ero dimenticato? Sì, l'ho giocato, anche perché l'ho giocato, se non sbaglio, a fine 2014. L'avevo iniziato a fine 2014 con la serie, ragazzi, ho fatto la serie. Sto parlando esattamente, ragazzi, di Dead Space 2. Cioè, veramente, guarda, parlare di questi giochi adesso mi fa un po' strano, ragazzi, perché questo gioco, non so, quando è uscito, tipo, 4 anni fa, forse sì. È strano parlare di questi titoli adesso. Comunque, ragazzi, questo è un titolo che va, secondo me, a migliorare in tutto e per tutto quello che era stato Dead Space 1. Vengono inserite nuovi tipi di armi, vengono inserite anche nuovi tipi di necromorfi. Forse, conoscendo già l'indole del titolo, mi sono trovato un po' meno in difficoltà per quanto riguarda lo stato di tensione e la paura. Ma, attenzione, non voglio dire che questo titolo non riserva comunque i soliti jumpscares o comunque le solite fasi di totale non capire più niente dalla paura. Ecco, anzi, ce ne sono... praticamente tutto il gioco è così. Però, sapete, mi sono trovato un po' più a mio agio, perché conoscendo già il primo, dici, oh, oh, dai, ok, ci sono già, facciamo, andiamo, facciamo. Però, comunque, questo titolo ha un survival horror assolutamente consigliato, che vi terrà incollato allo schermo con sempre questo stato di ansia perenne. E poi, secondo me, Dead Space, forse perché è un po' così cupo, buio, non sente il peso degli anni. È un titolo che, secondo me, potrebbe essere giocato sempre, in qualsiasi, in qualsiasi anni, in qualsiasi anno, anche a distanza di, appunto, parecchi anni dall'uscita, come ho fatto io. Il tutto, in più, è condito con un'ottima trama. E quindi, ragazzi, come si sa, da anni abbiamo tra le mani davvero un ottimo, un ottimo survival horror. Posizione numero 5, ragazzi. So che non ve lo aspettate, perché probabilmente non vi ricordavate questo titolo giocato da me, ma vi posso dare un esempio. Ci ho fatto un video sopra e l'ho anche platinato. Un titolo che si trova in questa posizione perché da lui non mi aspettavo tanto, ma è stato in grado, appunto, di sorprendermi. E quindi, per me, la sorpresa ha fatto sì che si trovasse in questa posizione. La sorpresa è anche, secondo me, le potenzialità che ha questo titolo ha fatto sì che si trovasse in questa posizione. Sto parlando di Le Terre di Mezzo, l'Ombra di Mordor. Oh, qui probabilmente storcerete il naso, eh, gioco di merda. Partiamo dal fatto che a me questo genere di gioco piace. Un po' così, open world, sandbox, con missioni principali e secondarie, alle quali possiamo approcciarci in maniera diversa, perché possiamo adottare diversi stili di gioco in questo titolo, dallo stealth all'azione pura. E il gioco ci viene incontro praticamente offrendoci diverse armi, perché abbiamo l'arco per lo scontro a distanza, abbiamo il coltello per lo scontro ravvicinato stealth, e in più abbiamo anche la spada e diverse armi per l'attacco corpo a corpo, comunque andare a mazzolare i nemici. Mi è piaciuto moltissimo il sistema di combattimento, che ovviamente e oggettivamente riprende comunque le sembianze di combattimento, di titoli come Assassin's Creed o Batman. Ed è un combattimento che mi piace, mi piace perché secondo me all'interno del combattimento è inserito anche una buona dose di abilità, perché bisogna spingere determinati tasti in breve tempo per fare magari la controparata o la contromossa. In più mi è piaciuto moltissimo anche il sistema di miglioramento delle abilità e di combattimento del nostro personaggio. Ma la cosa che mi ha sorpreso veramente di più è stata quella specie di piramide sociale dedicata agli Uruk. Perché praticamente la piramide sociale è il fatto che se un Uruk in combattimento ti ammazzava, veniva, saliva di grado fino ad arrivare appunto alle cariche maggiori, quelle più importanti. E quindi c'era praticamente questa sorta di ammassarsi a vicenda per evitare che gli Uruk andassero al potere. E io passavo praticamente i miei minuti a guardare i diversi Uruk, come erano fatti, le diverse caratteristiche, per cercare di sconfiggerli in maniera diversa. E questa sorta di tattica verso appunto il combattimento contro gli Uruk mi è piaciuta tantissimo. Non so per quale motivo, forse perché gli Uruk erano fatti benissimo, un lato artistico davvero ottimo, nonostante quello tecnico generale delle ambientazioni non sia poi così tanto eccezionale. Potevano usare di più con l'ambientazione come potevano usare di più anche con la trama. Ma secondo me è un titolo valido che mi ha divertito, mi ha intrattenuto per diverse ore, e appunto fino a platinarlo, volevo platinarlo perché me lo sentivo e sono contento di averlo inserito in questa posizione. In posizione numero 4 ragazzi c'è un titolo al quale ho voluto dedicare una serie intera, serie che ha avuto un po' di problemi e che quindi per colpa mia, per colpa mia e per colpa di altri mezzi purtroppo, non sono riuscito a godermelo al 100%. Nonostante ciò ho voluto inserire questo titolo in questa posizione perché è bello, perché è bello. Sto parlando di The Evil Within, un titolo realmente più profondo di quello che sembra. Personalmente l'ho atteso con tantissimo hype che appena uscito l'ho comprato e non sono stato deluso. Un survival horror che vuole andare alla scoperta delle origini appunto del male all'interno del nostro animo. Come ho già detto molto profondo e anche complicato. Sono stato colpito da tutto ragazzi di questo gioco, a partire dai protagonisti fino a passare agli antagonisti, i miei incubi della notte, mannaggia loro. E in più, cosa molto importante, mi ha colpito moltissimo l'ambientazione, dalle più veramente disparate perché si passa veramente da un ospedale psichiatrico a una casa in campagna. Però il tutto funziona, il tutto ha sempre questa ambientazione molto cupa, questo senso di tensione e di paura costante. Hai paura anche di fare il prossimo passo perché non sai cosa può succedere, non sai chi ti puoi trovare davanti e spesso chi ti trovi davanti sono degli stronzi che mi facevano paura. No, a parte gli scherzi, questo titolo più che spaventare a jump scares, ce ne saranno un paio ragazzi in tutto il gioco. Cerca, come ho detto precedentemente, di instaurare dentro di te uno stato costante di ansia, di paura e di tensione. E ci riesce ragazzi, ci riesce. In più, tutto condito secondo me con una trama davvero ottima, il tutto condito ragazzi secondo me da un livello di difficoltà davvero alto perché anche nelle modalità medie il livello di difficoltà è davvero buono e comunque dovrete sfidarvi contro un ottimo survival horror. Anche se in realtà questo, sì, è un survival horror alla fine, un horror che vuole cercare di essere comunque molto profondo, ti vuol fare intraprendere un viaggio a suo modo ovviamente e questo è un titolo assolutamente ragazzi che consiglio a tutti, magari anche ai non amanti del genere, perché io ovviamente non sono un amante del genere, ma comunque sono riuscito ad apprezzarlo in tutto per tutto. Finalmente ragazzi siamo arrivati al podio, al podio ragazzi dopo queste 6 posizioni si passa alle prime 3. Quindi medaglia di bronzo per un titolo che è uscito tipo nel 2008, no non è vero, è uscito tipo 4-5 anni fa, con un ritardo pazzesco sono riuscito a recuperarlo a fine dell'anno e per fortuna sono riuscito a farlo ragazzi, sto parlando di... Hitman Absolution! Yeah! Sì! Fortuna che l'ho recuperato. Allora no, devo riorganizzare un attimo le idee perché sennò qui faccio un macello. Avrei un sacco di cose da dire su questo titolo, ma devo essere un attimo breve perché sennò veramente il video dura tantissimo. Allora partiamo dalla trama, una trama semplice ragazzi, che si articola secondo me ottimamente e che ti fa comunque incontrare personaggi davvero molto particolari, molto strani, che comunque apprezzerai. Graficamente comunque è ancora il suo colpo d'occhio, ma ovviamente il tempo è passato e si vede che è un po' vetusta, ma secondo me giocata al tempo doveva essere veramente spettacolare. Ma ragazzi la cosa che mi ha fatto veramente godere come uno stronzo è il gameplay, perché ragazzi io amo questo genere di titoli, lo stealth secondo me è una cosa spettacolare, che poi non sono bravo, che poi non sono bravo nello stealth è un'altra cosa. Io amo tantissimo lo stealth, ma probabilmente non sono proprio il migliore esponente dello stealth ragazzi. Amo il fatto, perché praticamente loro ti inseriscono, la missione parte e tu sei libero di fare quello che vuoi. Io questa cosa la adoro, mi ricordo un buon anche su giochi diversi, Dishonored, dove tu praticamente hai tantissime possibilità per finire la missione, per completare appunto la missione, per uccidere un determinato obiettivo, per arrivare da una parte all'altra della mappa, hai tantissime possibilità e puoi farlo veramente in modi disparati. E a me il fatto che il gioco ti faccia scegliere cosa fare lo adoro, lo adoro perché ti lascia veramente la scelta. La cosa più bella secondo me è quella di riprovare a fare altre missioni, seguendo però altre strade. E vi accorgerete ragazzi che veramente questo gioco offre tantissimo, offre tantissime possibilità. E questa secondo me è una cosa che va premiata. Sono sincero ragazzi, nelle prime missioni ero un po' spiazzato, perché veramente loro ti buttano lì e ti dicono fai questo, e tu dici boh che cazzo devo fa? Poi invece dopo un po' ci prendi la mano, inizi a rubare un po' i travestimenti, inizi a usare un po' meglio lo stealth, a usare l'istinto per nasconderti, e dopo riesci a prendere la mano e rivire le missioni finali, che sei un assassino degno veramente di questo personaggio qui, che è veramente secondo me uno dei personaggi più silenziosi, ma veramente più carismatici del mondo dei videogiochi. Siamo arrivati alla posizione numero due ragazzi, Medaglia d'argento. Un titolo per il quale ho dedicato ore della mia vita, anche a portarvi una serie, che vi lascio qui se avete voglia di guardarla. Un titolo che nonostante la sua produzione problematica, nonostante tutto ciò, ha saputo veramente sorprendermi, rapirmi e divertirmi tantissimo. Sto parlando di... Until Dawn. Come molti titoli del genere, questo titolo ha saputo veramente rapirmi, con il suo gameplay, che molti non hanno la mentalità per considerarlo videogioco, e questa è una cosa che mi sta un po' sul cazzo, perché, cioè, questo è un videogioco. Do rompete i coglioni, questo è un videogioco, non è che devi dire, oh ma cos'è quello... No, basta, cioè, basta. Non hai nient'altro da dire. Questo è un videogioco, punto. Cioè, non è che devi dire, non è un... No, questo è un videogioco. È un genere di videogioco, non mi scassare la minchia. Scusate. Quindi, come molti titoli del genere... Anche perché la maggior parte di questi titoli di questo genere sono dei capolavori, e quindi bisognerebbe solo stare zitti. Comunque, titolo, ragazzi, che come molti del genere appunto mi ha sorpreso moltissimo, per il gameplay che a me piace, piace veramente molto. In più, ragazzi, mi ha sorpreso molto perché non credevo mi riuscisse a spaventare realmente, ma in realtà ci sono dei punti in cui ho urlato come veramente una fighetta, ma comunque riesce a mantenere sempre un livello abbastanza alto di tensione e di terrore. E questo l'ha apprezzato molto. La cosa positiva... La cosa positivissima che lascia questo gioco è la capacità di creare al tuo interno stati d'animo verso appunto i personaggi che andrai a utilizzare nel gioco. È incredibile come riesci ad affezionarti ad alcuni personaggi e come riesci ad odiare probabilmente solo un personaggio, vero, Emily? Però, appunto, la cosa strana è che questo titolo ti fa sviluppare diversi sentimenti per ogni personaggio. E a parte veramente un'ottima atmosfera che secondo me è stata fantastica sia tecnicamente che per quanto riguarda il sonoro. È stata veramente stupenda. Si fa venire i brividi e l'ambientazione è il perfetto contorno di questo titolo. La cosa bella, ragazzi, è la possibilità di prendere delle scelte in questo titolo a seconda del tuo pensiero, ecco. A seconda anche di favorire un personaggio anziché un altro. E mi ha colpito tantissimo, io questo titolo l'ho platinato, mi ha colpito tantissimo la possibilità di finali che ha questo titolo ma la rigiocabilità che ha. Perché, ragazzi, veramente è bello confrontarsi con gli amici a seconda delle azioni che uno ha compiuto. Perché se tu prendi una decisione succede una cosa e se tu ne prendi un'altra ne succede un'altra. Ed è bello rigiocarsi il titolo per vedere tutto quello che può succedere. E, credetemi, può succedere veramente di tutto. Ragazzi, compratelo. Cioè, compratelo. Ne vale veramente la pena, credetemi. Oh, ragazzi. Cioè, voi lo sapete cosa c'è la posizione numero uno. Lo sanno anche... Lo sanno anche loro. Oh, guardate. Qui. Cioè. Un titolo che quest'anno mi ha... Mi ha sfondato. Un titolo per il quale ho voluto dedicarci tanto tempo e sono stato felice di farlo. Perché se le meritava tutte le mie ore di tempo per giocarlo, per finirlo, per spolparlo. Vabbè, senza giri di parole, ragazzi, il titolo che secondo me mi sono fatto male. Il titolo che secondo me merita questa prima posizione è senza dubbio, senza dubbio Bloodborne. Sapete bene che il mio rapporto con i titoli From Software non è dei migliori. ho provato ad approcciarmi alla serie Souls fallendo. Fallendo miseramente perché purtroppo quello stile di gioco non fa per me. Non fa purtroppo per me. Ma con Bloodborne secondo me tutto cambia. Oggettivamente tutto cambia. Con questo sistema di combattimento io non so cosa dirvi mi sento a mio agio. Io se il personaggio è rapido è in grado di schivare più che di parare mi trovo veramente molto più a mio agio. E probabilmente anche un fatto di manualità riesco comunque a giocarlo meglio. Oltre a questo ragazzi però c'è da dire che mi sono innamorato del titolo in sé. Mi sono innamorato principalmente dell'ambientazione di gioco. Questo contesto in decadenza io ragazzi mi soffermavo minuti a guardare l'orizzonte a guardare gli scorci che lasciavano non so le montagne o comunque delle case e lontanze e mi chiedevo c'è la mia domanda guardando quegli orizzonti era ma là ci potrò mai andare là c'è qualcosa che posso visitare e se non ci potevo andare ci rimanevo male ragazzi perché ci sono degli scorci talmente belli che vorresti veramente visitarlo tutto e questa è una cosa veramente positiva secondo me l'emozione che ti lascia un'ambientazione di gioco è una cosa secondo me davvero molto positiva in più ragazzi come ogni titolo di questo genere che si rispetti c'è un'ampia veramente un'ampia personalizzazione del personaggio a seconda ovviamente del proprio stile di gioco e in più ovviamente si potrà modificare anche l'aspetto estetico del nostro personaggio cambiandogli vestiti ovviamente che andranno a influenzare comunque anche la nostra caratteristica bellissime bellissime le armi bellissime le armi con questo tono un po' genere steampunk diciamo così esteticamente sono sempre una diversa dall'altra e ognuna ha la propria caratteristica quest'arma qui è molto particolare io usavo però se non sbaglio l'ascia se non ricordo male esteticamente questo titolo è una favola veramente una favola o forse un incubo una cosa che mi ha colpito tantissimo è il fatto che io da questo titolo volevo sempre di più volevo scoprire le cose volevo infognarmi nei vicoli per andare a scoprire ogni singolo dettaglio del titolo e questo ve lo giuro raramente mi capita solo se un titolo mi prende realmente io sono in grado di volere esplorare di più le boss fight sono ottime ragazzi ma ci sono pochi ma sono veramente pochi boss che ti daranno veramente del filo da torcere però in generale ci sono dei punti del gioco dove veramente ti tocca cacciare delle madone abbastanza amplie e complesse però per il resto non mi sono trovato realmente in vera difficoltà per il resto devo recuperare assolutamente il DLC quest'anno mi muoverò per farlo assolutamente perché merita so già che merita questo DLC e quindi niente ragazzi Bloodborne si merita tutto quello che suppongo abbia ricevuto ma si merita sempre molto di più questo titolo ragazzi giocatevelo è stupendo veramente posizione numero 1 veramente meritata e anche quest'anno ragazzi la top il video sul 2015 sul mio anno passato videoludico finisce qua spero che comunque vi sia piaciuto spero che abbiate qualcosa da dirmi sotto nei commenti che non siano insulti mi raccomando perché sennò poi divento una bestia faccio un ultimo intervento per parlare un attimo dei buoni propositi del 2016 uno su tutti è quello di cercare di recuperare veramente tutti gli arretrati perché voglio cercare di almeno con la Playstation 4 ritenermi al passo con le uscite come avete visto ragazzi nella top mancano titoli importanti nei buoni propositi ovviamente c'è anche quello di recuperare questi titoli importanti avete visto che manca l'ultimo The Witcher purtroppo avendo dedicato moltissimo tempo a Bloodborne ho deciso dopo di dedicare del tempo ad altri titoli e non a un altro titolo molto ampio come The Witcher e in più ragazzi secondo me il buon proposito più grande di questo 2016 è quello di recuperare finalmente completamente la saga di Metal Gear Solid perché si perché ce li ho lì da giocarli ce li ho lì da giocare ma non mi ci sono mai avvicinato purtroppo ho sempre avuto questa ignoranza nei confronti di Metal Gear data probabilmente dalla mia giovane età perché alla fine ho 21 anni e quando sono usciti i primi Metal Gear io non mi ci sono mai avvicinato e quindi voglio cercare di crearmi una cultura per quanto riguarda Metal Gear Solid credo che sia un buon proposito ragazzi e quindi ragazzi il video finisce qui spero vi sia piaciuto un po' lunghino lasciate un mi piace un commento consiglio fatemi sapere qua sotto nei commenti quello che pensate voi di questa top o comunque anche della flop della flop dei giochi gratuiti per il PSN fatemelo sapere qua sotto con un commento ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video un saluto ad un menzo e alla prossima ragazzi ciao a tutti ragazzi